Non cresce solo il turismo in provincia di Lecco, secondo uno studio della Camera di Commercio, è in aumento anche il volume di affari del sistema della cultura. Il settore rappresenta il 4,6% della quota di valore aggiunto creato nel nostro territorio. Parlando in soldoni, nel 2022 la cifra è stata di 480 milioni di euro, con una crescita del 6% rispetto all'anno precedente. Bisogna distinguere poi fra le attività di carattere prettamente culturale, come l'editoria, la comunicazione e lo sviluppo di software, e quelle nelle quali invece i processi delle aziende sono guidati da una componente creativa e culturale. In particolare, in provincia di Lecco, il valore aggiunto delle attività propriamente culturali è stato nel 2022 di 217 milioni di euro, poco in più del 2% dell'economia totale lecchese. Una crescita di 5 punti percentuali rispetto all'anno precedente, che è superiore anche ai livelli registrati pre-pandemia. Per quanto riguarda le tipologie di attività, Lecco è nella top 10. La nostra provincia è non a livello nazionale nella categoria architettura e design, e il 29esimo nella comunicazione per valore aggiunto. Ancora maggiore l'impatto delle attività economiche che sono guidate da cultura e creatività. Il valore aggiunto ammonta in questo caso 259 milioni di euro, il 2,4% del totale in provincia, in crescita dell'11,7% rispetto al 2019. Le aziende del settore cultura danno lavoro a oltre 7.300 persone nel territorio lecchese, un valore però in calo rispetto al 2019. La nostra provincia è comunque la settima a livello nazionale per personale impiegato nei comparti di architettura e design. Per quanto riguarda il numero delle aziende, Lecco è non a livello nazionale, anche se calano le realtà operative nell'editoria e nella stampa. Crescono invece le società nel settore dei videogames e del software, con Lecco al sesto posto in Italia per numero di aziende sul totale. Cinque infine le realtà che si occupano strettamente di patrimonio storico e artistico.